mai buongiorno 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 chiamiamo appello sì buongiorno seduta dell'otto quattro ventuno ore undici e dieci primo appello Aresu presente Cannella assente di Muri assente Maraventano presente Nona assente Pernice assente Sino assente Susinno assente Tumbarello assente Valenti assente presenti due allora verificata la mancanza del numero regale l'invio da seduta di un'ora quindi chiudi alle ore undici e unico e undici apriamo alle dodici e undici va bene buona colazione a dopo ciao ci vediamo dopo a dopo va bene ciao ciao ciao